Ho sempre tenuto il destino stretto tra le mie mani. Nel tempo ho scritto il mio futuro. Guardo indietro e mi rivedo in quella stanza dove tutto è cominciato. Lì ho iniziato a tracciare la mia strada. Ricordo la forza degli insegnamenti di chi ha dedicato la sua intera vita agli altri. E sento viva quella fiamma che iniziava a bruciare dentro di me. La fatica, il coraggio di prendere una strada e rischiare tutto. L'odore della polvere e la follia di quell'idea. Quel lampo che mi ha indicato il sentiero giusto. Quello era per me il futuro. E alla fine della salita, quando incroci il destino di qualcun altro, capisci che il tuo lavoro è stato ripagato. Ho sempre saputo che il destino sarebbe passato dalle mie mani. Ma non ho mai scordato che è il cuore a indicarmi ancora oggi il cammino. Grazie. Grazie. Grazie.